Quando due onde che si propagano in un mezzo si incrociano passando per uno stesso punto, esse si attraversano senza disturbarsi. Le oscillazioni si sommano e la perturbazione complessiva è pari alla somma delle perturbazioni che ciascuna onda produrrebbe singolarmente. Questo è il principio di sovrapposizione delle onde. Il risultato dipende dallo sfasamento delle due onde. Se le onde sono in fase, si ha interferenza costruttiva. Mentre se sono in opposizione di fase, si ha interferenza distruttiva. Quando un'onda si propaga in un mezzo bidimensionale o tridimensionale, si chiama fronte d'onda una superficie caratterizzata dal fatto che tutti i suoi punti hanno la medesima fase di oscillazione. Come si può interpretare l'avanzamento nel tempo del fronte di un'onda? A un certo istante, la circonferenza di raggio R rappresenta la traccia di un fronte d'onda sferico emesso dalla sorgente nel punto O. Supponiamo con Huygens che ciascuno dei punti di quel fronte d'onda emetta a sua volta un'onda sferica con la velocità di propagazione V. Dopo un piccolo intervallo di tempo ΔT, la superficie tangente a tutte le onde secondarie, cioè il loro inviluppo, è quella su cui esse interferiscono costruttivamente. Essa rappresenta il nuovo fronte dell'onda originariamente prodotta nel punto O. Secondo il principio di Huygens, dunque, ogni punto del fronte d'onda di una perturbazione può essere equiparato a una sorgente puntiforme di onde sferiche che si propagano verso l'esterno in tutte le direzioni. L'interferenza tra queste onde secondarie dà origine al nuovo fronte d'onda.